siamo arrivati al mio aggiornamento mensile il mio portafoglio azionario i miei dividendi le mie opzioni e i miei investimenti alternativi e siamo arrivati al secondo mese dell'anno quello che si è chiuso a febbraio che è il primo in calo dopo una lunga serie ma questo mi sembrava ovvio se fosse stato possibile crescere sempre costantemente di mese in mese in 10 anni sarei alle 6 celle a vivere ma ne parliamo all'interno del video ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aif ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglio acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole come menzionavo trovi il link sia per la versione cartacea che per quella in formato kindle qui sotto nella descrizione ritorniamo al mio brevissimo e consueto aggiornamento devo dire che anche questo mese è stato un ottimo mese a mio parere mi aspettavo sinceramente di meno ma sicuramente non mi sarei aspettato un mese in crescita come ovvio che sia non è sempre natale e io per la cronaca mi chiamo pasquale comunque vabbè battute a parte come immaginavo dividendo in calo e opzioni più o meno costanti ma ci arriviamo subito ma prima passiamo da tutto il resto partiamo dal pack di andrea dal piano di accumulo che sto facendo mese per mese per mio figlio che è a pieno regime in territorio positivo attestandosi a un accumulo molto piacevole in territorio che supera ormai il 2 per cento questo ormai vive di vività propria con un patrimonio ancora piccolo ma l'aggiunta di quote a cadenza quindicinale aiuta ancora molto a mitigare le perdite che c'erano state in passato e ha massimizzato un po le salite fra qualche anno so che non sarà più così ma intanto si accumula ricordo che l'etf utilizzato è l'ixor msci world ad accumulazione con il ticker wldc volevo inoltre segnalare il mio conto di emergenza che è a un buon punto avendo raggiunto le due mensilità di copertura cose che non ho mai citato ma che visto gli imprevisti di quali mi avete sentito parlare in passato e uno del quale ancora non mi avete sentito parlare e che troverete in un post diciamo su facebook su instagram è stato utilizzato le discrete volte ed ora piano piano come una formichina sta crescendo nuovamente speriamo per la fine dell'anno di portarlo a tre mensilità ma visto questo imprevisto quest'ultimo che è accaduto non credo proprio we are starting qui l'investimento è ancora fermo ai 400 euro fatti con you it ma come affermavo nell'ultimo aggiornamento quello dell'anno finale 2022 a caso di imprevisto ho dovuto bloccare gli investimenti anzi andare a prelevare un po di liquidità dal mercato azionario spero sinceramente ad aprile di avere delle opportunità di investimento magari da altre fonti di reddito da segnalare che a febbraio sul conto diretto è stato caricato questo investimento che ora è anche dotato di una certificazione ufficiale che conferma il numero di quote che io ho sottoscritto passiamo poi a prepay per le stesse motivazioni di qui sopra i miei investimenti in prepay sono ancora bloccati e non ripartiti e anche in questo caso spero che in qualche modo le entrate per le varie fonti alternative ad aprile mi permettano di ripartire contemporaneamente spero che si presentano delle occasioni che a me piacciono e che siano allettanti ricordo che i miei due investimenti attuali sono entrambi in scadenza alla fine del 2023 ho della liquidità disponibile sulla piattaforma legata agli interessi che ho già ricevuto al riguardo e a quegli investimenti spero di poter fare la mia parte al più presto pronto ad aprile come menzionavo non intendo per cui lasciare questa tipologia di investimento per lo meno nel breve periodo passiamo ai dividendi e le opzioni per quanto riguarda questo mese appena conclusosi ottimi risultati come sempre ma in netto calo rispetto al mese di gennaio infatti ho ricevuto un solo dividendo del valore di 13,39 euro che è derivante dall'etf GLDV lo spider global dividend aristocrats non ho purtroppo altri introiti arrivati dai dividendi questo mese ma ho altro in cassa derivanti dalle opzioni dalla vendita di call su mpw medical property trust per queste operazioni che vi mostro sono riuscito a incassare 177,54 euro in netto calo come dicevo rispetto ai mesi precedenti infatti rispetto a gennaio sono meno 90 euro ma comunque sono soddisfatto in totale per quanto riguarda il mese di febbraio fra dividendi e opzioni ho incassato 190,93 euro praticamente la metà di quello che ho incassato nel mese di gennaio ricordo che sono tutti al netto delle commissioni e delle tasse ovviamente non tutti i mesi avranno un cash flow costante ma è normale quello che devo fare è di farli essere i più vicini possibili fra di loro in termini di valori perché mi piace la costanza come avevo anticipato ho iniziato a spostare della liquidità su interactive brokers e perlomeno fino a giugno farò delle prove con opzioni su quella piattaforma per constatare se dividere le due attività opzioni e investimenti possa avere un qualsiasi senso considerando che su interactive brokers posso anche vendere delle put naked vedremo di iniziare già da inizio marzo a fare qualche operazione con le opzioni put naked invece per quanto riguarda la vendita di call ho già fatto qualcosina perché avevo comprato di nuovo alcune azioni di medical property trust su cui avevo venduto delle call e in questo caso ho incassato il premio e la call ha raggiunto il prezzo di strike per cui mi sono state elevate le 100 quote bene qui ci arrivati anche alla fine di questo aggiornamento se il contenuto è stato il tuo gradimento ti chiedo per cortesia di farmelo capire con veramente con poco con un bel pollice all'insù per l'algoritmo di youtube e per la mia soddisfazione personale lasciami un commento qui sotto e dammi le tue impressioni in merito se poi sei nuovo su questo canale non vuoi perderti nessun nuovo video iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché ogni nuovo video pubblicato ti venga notificato bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci in un prossimo video ciao a presto ciao a presto